Un bellissimo palleggio alla donato del Napoli che ha portato alla verticalizzazione Adesso il Napoli non deve chiudersi dietro e deve fare il campanello Siamo ai 10 minuti di gioco, la notizia è quella Che forse tutti i tifosi del Napoli speravano di ascoltare E' stato 10 minuti di nuovo, un palleggio al San Giangelo del Nadeo 3-0, un'altra posizione, un'altra posizione, un'altra posizione, un'altra posizione Non perdete, vi proseguo la ragazza Questo programma è un calcio da E' un calcio, ragazzi Un calcio è molto più E' un'altra posizione per un'altra posizione E' la maglia E' un amore che dura una vita Ti fa raggiungere per un vigore manca a tutti Ti fa esultare per un'altra risposta 3-3-0, a testa a fondo Il calcio è il gioco Tutti in gioco Il calcio è il calcio Sul canale 9